Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippo Review e oggi siamo qui per recensirvi un nuovissimo prodotto con il quale apriamo una nuova sezione, ovvero una sezione dedicata alla creatività e al fai da te, vero Pippo? Sì! Che cosa abbiamo qui? Una? Tukan Box! Una scatolina chiamata Tukan Box, eccola qui e potete vedere anche che c'è il nome di Pippo, quindi è una scatolina personalizzata. Se ci guardate abbiamo tutto... Sì! E che cosa contiene questa scatolina? Contiene un lavoretto da fare, quindi è una scatolina proprio creativa che ci fa creare e liberare, usare la nostra fantasia. Noi abbiamo conosciuto questa azienda, appunto, questo sito www.tukanbox.com grazie a una ragazza che ormai noi consideriamo una nostra amica, ovvero Dagnara Quincici. Ti mandiamo un grosso bacione! Che è praticamente una ragazza che è una reviewer come me e Pippo, ha una pagina Facebook e anche Instagram dove fa vedere, dove recensisce tantissimi prodotti molto molto interessanti, quindi vi lasceremo il suo link qua sotto nell'info box. E Tukan Box, appunto, è... all'interno di questa scatolina si trova un kit creativo, dove c'è già all'interno tutto quello che vi serve per creare una cosina, vero Pippo? Sì! Quindi c'è già tutto all'interno. Quindi queste scatoline ci vogliono far passare il messaggio di, oltre ad utilizzare la tecnologia, però anche di utilizzare la propria fantasia creando delle cose, vero? Sì! Quindi anche per Pippo è perfetta, soprattutto per i bimbi ancora piccolini. Questa, se volete anche voi questa Tukan Box, qua sotto nell'info box vi lasciamo un link. Voi cliccate su questo link e automaticamente sarete abbonati a questa Tukan Box e la prima Tukan Box sarà gratuita, quindi non dovrete pagarla. Poi naturalmente dopo la prima le altre che arriveranno sono a pagamento, però potete decidere di bloccare l'abbonamento, e non c'è nessun tipo di problema, potete bloccarlo quando più volete, oppure di continuare questo abbonamento. Secondo me comunque è da continuare perché ragazzi, anche io e Pippo lo continueremo perché è bellissimo, vero? Già ci ispira tutte queste cose da creare, molto carine. Per tutte le informazioni comunque vi lasceremo qua sotto il link del sito, così andrete, là c'è scritto tutto. Comunque questa Tukan Box si riceve ogni due settimane. Quindi ne avrete appunto due al mese, è molto molto carino. Ok, naturalmente qui magari vi chiederanno il vostro nome, ad esempio qui ci hanno chiesto quello di Pippo e ve lo metteranno sulla Tukan Box, quindi è molto molto carino. Guardate, tutti così? Sì, tutti dei pacciocchini, Tukan Box. Guardate. Sì, ok. Allora, io direi subito di iniziare ad aprire. Vediamo un po'. Siamo molto molto curiosi. Poi la cosa che appunto è ogni due settimane, è molto carino. Aspetta Pippo prima di aprire lì. No, ho già visto. Aspetta. Una medusa, ho già visto. Allora, vediamo. Allora, vediamo un po'. Ah, che carino. Ciao Pippo. Cioè, tutta personalizzata. Trattieni il respiro, stiamo per immergerci nell'oceano, alla scoperta di alcune creature meravigliose. Attacca la tua medusa a una finestra e sfida i tuoi amici marini in una gara. Chi vincerà? Wow, che carino. Aspetta Pippo prima di prenderle così, eh. Passaparola con i tuoi amici. Fai un regalo ai tuoi amici. Il primo kit creativo Tukenbox è gratuito e ricevi uno sconto del 50% per ogni amico che accetta il tuo regalo. Stacca uno degli adesivi con il tuo codice personale e attaccalo nel volantino dedicato al passaparola con gli amici che trovi nella tua scatola. Ok, qua appunto c'è il codice sconto con il quale avrete un 50% di sconto sull'acquisto sulla Tukenbox. Sapete Pippo prima di togliere tutto? Pippo è molto molto emozionato. Adesso apriamo tutto. Che carino. Allora, cioè guardate, ci sono tantissime cose. Uno stecchino. Uno stecchino, una cannuccia. Le ventose. Il sacchetto. Oh, anche il giornalino. C'è tantissime cose, ragazzi. Una medusa. Sì, una medusa. C'era appunto scritto anche prima. Allora, guardiamo un po' che cosa c'è all'interno. Un kit creativo gratuito per i tuoi amici. Appunto qua dice. Qua dice un po' come riceverlo, ma comunque più o meno ve l'abbiamo detto io e Pippo prima. Quindi comunque vi lasceremo appunto il link del sito sotto e vi sarà detto tutto. Ecco come funziona. Appunto qua ci sono varie regolette. No, no, no. Non staccarlo. No, lo faccio. Poi, tutti all'opera, la corsa delle meduse. Già data, ragazzi. Wow. Allora, vediamo. No. Ah, vabbè. Non importa, tanto si può staccare. Allora, cosa serve? Qua c'è tutto, le forbicine. Ah, procurati anche. Quindi l'unica cosa che non ci sono sono le forbici. Ma comunque ognuno di noi non è in casa, quindi non c'è nessun problema. Aspetta Pippo, non perdere le cosine. Allora, apriamo un pochino. Ok, qua ci sono tutti i passaggi. Adesso le crederemo insieme. Partiamo per un'avventura in fondo al mare. Allora, guardiamo velocemente. Ah, qui ci sono anche dei giochini, quindi da colorare, labirinto. Wow, ragazzi, c'è una ricetta. Pippo, che dici, la facciamo nella nostra stazione cucina? Sì, ragazzi, guardate. Dentro un sacchettino c'è il paparau. Uh, tucan box, dopo lo guardiamo. Comunque ragazzi, forse se spolliciate, se mettete tantissimi pollici in su, faremo questa ricettina. Quindi, mi raccomando, mettete un bel like alla fine di questo video. Quindi, granchi golosi, se volete che facciamo questi granchi golosi. L'acqua... Ah, l'acquario. Ok, qua spiega come utilizzare anche la scatola della tucan box, in questo caso per fare un acquario. Quindi, faremo tutto tra un po'. Perfetto. Perfetto. Perfetto, ti dico una cosa. Perfetto. Sì. Ecco, allora, se volete, ovviamente, un'altra cosa, mettete 100.000 like. Sì, veramente, spolliciate, mettete tantissimi pollici in su, così magari recensiremo un'altra tucan box e faremo anche quel video ricette. Iniziamo che hanno la nostra menù. Iniziamo che 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 la nostra menù. l'abbiamo appesa bravissimo Pippo, eccola là bellissima, allora l'abbiamo appesa eccola lì con la ventosa, adesso la faccio vedere da vicino questa qui l'abbiamo messa all'armadio in teoria c'era scritto di metterla alla finestra solo che in questo momento è sera e allora non avrebbe tanto senso appunto appenderla alla finestra perché c'è tutto buio ma è bellissimo, voglio farvi vedere cosa guardate bravo, si tirano i lacci guardate un po' cosa fa sale cioè è bellissima ragazzi ecco qui le due meduse che abbiamo creato oggi, bravissimo Pippo quindi eccole qua le nostre due meduse che abbiamo appunto creato sono veramente bellissime ragazzi adesso attacco l'adesivo sulla scatola sì abbiamo notato che c'è anche questo adesivo che appunto non fa parte della creazione ma la possiamo attaccare dove vogliamo ma il Pippo ha deciso di attaccarla sulla scatolina eccolo qua mister polletto quindi mi raccomando abbonatevi a questa tucan box cliccando il link che vi lasceremo qua sotto nell'info box appunto come vi ho già detto cliccate il link sarete già abbonati riceverete la prima tucan box gratuitamente poi deciderete se riceverne altre naturalmente a pagamento oppure stoppare l'abbonamento ma comunque secondo me lo continuerete perché è una cosa sono veramente è un'idea molto molto carina queste qui delle tucan box hai dato se zacko sono giapponesi ok quindi se vi è giusto questo video mettete un bel pollice in su se siete iscriviti in la storia e mi chiedete un bel pollice in su questo video e sto e sto e sto e sto boom bravissima vi parla se siete bellissimi commenti come fate sempre noi vi ringraziamo tantissimo mi raccomando mettete tantissimi pollice in su se vi piace questa nuova sezione fai da te e se volete altri video così presto presto ce ne saranno degli altri quindi spolliciate tantissimo quindi saluti da Tina e vi parla ciao ciao